Il covid fa altre quattro vittime, due nel Terramano e due in provincia dell'Aquila. 832 nuovi casi, 1.401 guariti, percentuale di positività oltre il 15%. Profughi in fila al lab vaccinale di Teramo per sottoporsi ai tamponi alla vaccinazione, tante donne e bambini pochi, gli ucraini trovati positivi. Il grande cuore dell'Abruzzo per l'accoglienza a chi scappa dalla guerra. I comuni chiedono aiuto ai privati, mentre le organizzazioni umanitarie si mobilitano. La proposta del consigliere Dino Pepe, biglietto unico per il trasporto pubblico in provincia di Teramo, come già avviene nell'area Pescara-Chieti. Ben trovati, nuovo appuntamento con l'informazione del Tg Abruzzo. Lo avete appena sentito anche dai nostri titoli. Apriamo questo telegiornale con quelli che sono i numeri della pandemia, riferiti alle ultime 24 ore in regione, dove si contano 832 nuovi casi di positività al SARS-CoV-2, ma il tasso di positività è pari al 15,63%. E purtroppo si registrano altri quattro decessi. Sara Delvecchio. Sono 832 di età compresa tra 4 mesi e 97 anni i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. 731 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 879 tamponi molecolari e 4.441 test antigenici, un numero quindi inferiore rispetto ai giorni scorsi. Il tasso di positività sale al 15,63%. Il bilancio dei pazienti deceduti arriva a 3.044, registra quattro nuovi casi di età compresa tra 42 e 96 anni, due in provincia dell'Aquila e due in quella di Teramo. Elevato il numero dei guariti sono 1.401. 273 pazienti sono ricoverati in ospedale e in area medica, un numero invariato rispetto alla giornata di ieri, 13 in terapia intensiva. Anche in questo caso il numero è invariato rispetto a ieri, mentre gli altri 38.823 sono i positivi in isolamento domiciliare. La cronaca, tre arresti sono stati eseguiti dalla squadra volante dell'Aquila per una violenta rissa avvenuta lo scorso 20 febbraio. Ai domiciliari sono finiti tre giovani residenti in città che dopo aver abusato di alcolici e lanciato bottiglie hanno mandato in ospedale due persone per lesioni giudicate guaribili fino a 20 giorni. Il provvedimento cautelare messo dal giudice presso il Tribunale dell'Aquila su richiesta della locale Procura della Repubblica è scaturito all'esito dell'attività d'indagine che ha evidenziato gravi indizi di colpevolezza in merito ai fatti contestati a carico dei tre ragazzi. Profughi ucraini, soprattutto donne e bambini, questa mattina si sono presentati all'hub vaccinale di Teramo per sottoporsi a tamponi e vaccini. Alfredo Giovannozzi. Sono arrivati tutti nelle ultime 72 ore. Per la maggior parte si tratta di donne e bambini che vengono da Kharkiv. Sono fuggiti dalle bombe e dall'assedio dei soldati russi. Hanno raggiunto l'Italia con auto private e pulmini e adesso si ritrovano alloggiati in appartamenti messi a disposizione dai tanti ucraini che vivono da tempo nella zona costiera del Teramano. Questa mattina erano tutti in fila al lab vaccinale del Parco della Scienza a Teramo per sottoporsi al tampone. Qualcuno ha anche fatto il vaccino, soprattutto i bambini. Fino ad oggi i positivi trovati tra coloro che sono arrivati dall'Ucraina sono stati pochissimi. Voglia di parlare? No, non ce l'hanno. Hanno dovuto abbandonare tutto, hanno rischiato la vita. Dimenticare quanto hanno visto e vissuto non possono. Il dolore lo si legge ancora nei loro occhi. Continuano ad arrivare in modo isolato, in autonomia, non come gruppi organizzati numerosi. Comunque oggi sono intorno ai 20. Vengono per il tampone l'STP. Chi vuole fare il vaccino fa il vaccino. Adesso stiamo in collaborazione con la Questura e con la Prefettura per fare la registrazione e eventualmente trovare l'alloggio. Fino ad oggi i tamponi sono stati tanti, ma i positivi fortunatamente pochi. Fortunatamente pochi, nel senso come percentuale di positività, rispecchia la positività della popolazione italiana. E per i tamponi, per i vaccini invece? Per i vaccini la maggior parte delle persone, cioè gli adulti, le mamme, erano vaccinate o hanno fatto il booster. I piccoli non erano vaccinati, però l'hanno fatto. Erika, da 20 anni in Italia, ha accolto la nipote e i suoi due figli a casa propria. In Ucraina ha lasciato tanti familiari e una madre che non può raggiungerla in Italia. Questa è la storia che ci racconta la nostra Sala del Vecchio. Quando nel tuo paese un conflitto in atto non dà tregua, è difficile continuare a sperare. Ma Erika cerca di lottare per i cari rimasti a casa e per una madre anziana che non può raggiungere l'Italia. In Abruzzo, da 20 anni, ha accolto la nipote e i suoi figli di 11 e 15 anni. Sono partiti abbastanza veloci quando è iniziata tutta la guerra, diciamo. Non hanno toccato tutto in fondo come adesso, però come siamo rimasti pure con i nostri parenti che sono rimasti ancora lì, allora sappiamo tutto. Ma di dov'è? Noi siamo di Mykolaev, proprio la città che sta a combattere già più di 20 giorni. E loro sono arrivati, prima sono andati a Romania, prima sono stati verso Polonia, però stavano aspettando, con la speranza che si finisce tutto subito, però ormai. Dopo sono andati tramite Romania, stavano lì dagli amici nostri, stavano un po' accolti da una famiglia e dopo sono arrivati da me, perché ha detto guarda siamo famiglia e dobbiamo stare insieme. Ovviamente ho paura di richiamare loro, perché la informazione è molto brutta e tutte le notizie non è che sono... cioè la mia città si sta sotto bombardaggio tutti i giorni, perché io c'ho pure l'applicazione della mia città, praticamente che vedo tutte le allarme che scattano di notte, di giorno, tutte le notizie praticamente dalla gente che stanno lì. La mia mamma stava fino a 16 là, non ti posso dire che è terrorizzata, perché per una persona di 82 anni è una cosa... ma beh, lei dice che io sono nata in guerra, lei è nata in guerra, seconda mondiale praticamente, ha detto che muoio in guerra, ha detto no, che ti deve far morire, siamo riusciti a portare fuori, siamo riusciti, qua no perché non ci arriva, siamo riusciti perché sta male pure, siamo riusciti a partire dalla mia cugina che sta in Moldova, sta diciamo a sicurezza, però ci sono rimasti parenti, non solo la mia città, la mia città ci sono le persone con chi studiava a scuola, va bene, tutti amici, amiche, normale che ci sentiamo e il cuore fa malissimo per loro, perché ci sono altri parenti pure che non vogliono uscire, che hanno figli che hanno 18 anni. Sergio D'Ascenzo, presidente dell'Associazione Umanitaria Cherigma, lancia l'ennesimo appello ai terramani per cibo e acqua da portare in Ucraina. La situazione generale è arrivata al limite della sopravvivenza. Giancarlo Falconi. D'Ascenzo, tratta delle bambine, abbiamo la mafia della pedofilia, della prostituzione, com'è la situazione in Ucraina? È un disastro e purtroppo i canali ufficiali sono molto preoccupati di proteggere la propria immagine che si tratti di Ucraina, di Russia o di altro, a me francamente non frega niente, e a me interessa sapere che c'è gente che sta morendo di fame, di stenti, rinchiusa, soprattutto la più povera, quella che non ha la macchina per mettersi in avventura per cercare di fuggire. Sto parlando di gente che avanti ieri è salita sui nostri camion come carico bestiame per rinchiudersi in un cassone senza aria pur di allontanarsi quando eravamo andati a portare i viveri. Voi continuate nella vostra lotta contro anche la mafia russa, ricordiamo, no? E ricordiamo anche che c'è chi ha pagato per uscire fuori dall'Ucraina. Purtroppo sì, non è una regola, ma capita troppo spesso che delle guardie ucraine alla dogana chiedano soldi, almeno questo avviene sul fronte rumeno, per testimonianze dirette. Noi non ci fermiamo, non vogliamo fermarci. Proprio ieri ho mandato a Emanuele da distribuire sulla frontiera tutte le associazioni coinvolte una piccola app, sembra una stupidaggine, un codice a barre da far fotografare le ragazze e le donne in fila, proprio perché diamo loro indicazioni, attenzione, non fidatevi, non chiedete passaggi, non accettate passaggi. L'appello ai terramani. Sì, siamo arrivati al punto in cui quando arriviamo sul posto con un nostro tir carico di alimenti, i vostri alimenti, quelli che avete messo insieme, che stiamo mettendo insieme, un tir è atteso da 5, 6, 7 tir vuoti di amici ucraini che vorrebbero distribuire e portare a destinazione. Abbiamo una rete fantastica di ragazzi pronti a morire con le proprie macchine per caricare vitti, per caricare materiale, per caricare tutto il cibo, tutto ciò che c'è e portarlo a destinazione, andare a cercare le persone, quelle che conoscono, nelle varie comunità nascoste anche nei villaggi. L'appuntamento è sempre al capannone della Gammarana? L'appuntamento è sempre alla Gammarana, a fianco alla pizzeria della stazione, è un capannone aperto tutti i poveriggi, dalle 15.30 alle 19, stiamo stringendo i denti per riuscirci, ma soprattutto vi chiediamo di fare presto e bene. Io sono convinto che tanti di voi hanno già contribuito, sono convinto che state facendo tanto, ma dobbiamo fare di più. Bisogna mettere insieme tanta roba, riempire un tir e portarlo, perché immediatamente c'è la distribuzione capillare e tanta gente viene alleviata nelle sofferenze e soprattutto sopravvive per vedere come finisce questa vergogna. Sono già oltre 70 i profughi accolti a Giulianova e la metà circa è costituita da bambini ucraini. Mercoledì prossimo riaprirà il centro, i pioppi del quartiere annunziata per l'accoglienza di altri ucraini in arrivo. Sentiamo. La sala polifunzionale Pioppi del quartiere annunziata di Giulianova si apre al sostegno delle persone in fuga dall'Ucraina. A partire da mercoledì prossimo la struttura sarà a disposizione al fine di semplificare al massimo le procedure di accoglienza. Qui potranno essere disbrigate tutte le pratiche necessarie all'identificazione e registrazione, le procedure sanitarie, effettuazione del vaccino anti-covid-19, del tampone diagnostico, il rilascio del codice STP, l'assistenza alloggiativa. Il direttore generale dell'Asle di Teramo Maurizio Di Giosia, il responsabile regionale per i vaccini Maurizio Brucchi e il vice sindaco di Giulianova, Lidia Albani, in questi giorni hanno pianificato l'organizzazione. Il mercoledì aprirà i battenti di nuovo Sala Pioppi per accogliere i profughi, dalle 8 alle 14 sarà aperta appunto il lunedì, il mercoledì e il venerdì. È un'iniziativa fortemente voluta dalla protezione civile regionale, dal presidente Marsilio e poi insieme all'Asle di Teramo abbiamo appunto deciso di riaprire Sala Pioppi per servire coloro che arriveranno sulla costa terramana. L'Abb servirà a tutti quelli che arriveranno lì, ma diciamo principalmente quelli che poi si fermeranno sulla costa, poi ovviamente per il tramite della questura della prefettura gli verrà assegnato l'alloggio, ieri è scaduto il bando della protezione civile regionale per gli hotel, molti hotel di Giulianova hanno aderito, quindi vediamo insomma poi dove verranno sistemati. Le persone che ospitano i cittadini ucraini entro le 48 ore dall'arrivo sono peraltro tenute a formalizzare un'apposita dichiarazione di ospitalità, indicando chi ospita e dove all'autorità di pubblica sicurezza o recarsi presso uno degli hub vaccinali insieme alla persona ospitata. I numeri che cosa dicono? Qui a Giulianova in quanti sono arrivati? Dunque, oramai sono circa 25 giorni che assistiamo le famiglie ucraine arrivate a Giulianova, ne sono arrivate 22 per un totale di 76 persone, 37 sono minori, alcune sono state sistemate in alloggi privati grazie alla generosità appunto di cittadini giugliesi, altre invece sono state sistemate nei CAS di Roseto e di Teramo. C'è anche l'aspetto legato ai più piccoli che devono ovviamente riprendere l'attività didattica, come vi state organizzando con le scuole? Dunque, noi adesso attendiamo la nota dell'ufficio scolastico regionale, però nel frattempo abbiamo già trovato degli interpreti che quindi affiancheranno i bambini a scuola e con le presidi vediamo appunto di inserirli, quindi procederemo alle iscrizioni nei prossimi giorni. Non avendo una struttura da dedicare all'accoglienza dei profughi, il comune di Castellalto ha aperto alle domande per trovare degli alloggi da destinare all'ospitalità all'interno del territorio comunale. Chiara Bonatti. Con l'arrivo dei profughi dall'Ucraina in Abruzzo ogni comune cerca di fare la propria parte. Anche il comune di Castellalto dopo la raccolta di generi di prima necessità ha aperto alle richieste dei cittadini che hanno deciso di mettere a disposizione strutture e alloggi per l'ospitalità di persone che fuggono dalla guerra. Dopo la tornata degli aiuti che è stata messa a disposizione, dove abbiamo avuto una grandissima risposta da parte dei cittadini e sinceramente non ne avevamo dubbio, però ogni volta che si riconferma a noi ci si confia ancora di più il cuore perché capiamo che oltre alla tragedia che si sta vivendo, lo capiamo benissimo anche noi cittadini di Castellalto quanto c'è bisogno oggi di dare una mano. Ecco che l'amministrazione insieme all'ufficio si è mosso affinché potesse essere un filtro per la prefettura, quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questo bando, questo avviso dove noi ci mettiamo a disposizione e raccoglieremo tutte le istanze dei cittadini che vogliono mettere a disposizione le proprie abitazioni per le persone che fuggono purtroppo dalla guerra. Castellalto ha voluto dare questa possibilità ai cittadini perché il comune non dispone di alloggi in questo momento da destinare a tale scopo e con il numero sempre maggiore di arrivi i territori si mettono in moto per aiutare la prefettura a gestire l'ospitalità degli ucraini. Sì, appunto per questo non avendo locali comunali, non potendo dare un supporto diretto abbiamo pensato semplicemente di alleggerire e di fare da filtro alla prefettura. Un gruppo di bambini ucraini in Abruzzo dal 12 marzo ha voluto questa mattina ringraziare tutti i volontari e gli agenti della questura di Pescara che li ha accolti in un centro di Porta Nuova. Sara Del Vecchio. La forza e la generosità dei bambini nei disegni affissi alle pareti del centro di prima accoglianza a Pescara e nei gesti di chi sa riconoscere la gentilezza altrui. Nel primo giorno di primavera dei bambini ucraini a Pescara dal 12 marzo, ospitati in un albergo della vicina Montesilvano, assieme alle loro madri, hanno regalato dei fiori ai volontari della protezione civile e agli agenti della questura di Pescara. Grazie Italia hanno scandito all'ingresso del centro di prima accoglienza allestito ormai da settimane negli spazi dell'ex stazione di Porta Nuova. Ad accompagnare i bimbi provenienti dalle varie città ucraine, Olga Nezzurina, che da giorni coordina il lavoro dei volontari della protezione civile e dei servizi sociali del comune, per riuscire a strappare un sorriso a mamme e bambini. Tra i più piccoli c'è anche Isi, il cane fuggito dalla guerra assieme a Rita. Ancora un sinistro sulla strada statale 80 a Teramo, il conducente di un veicolo diretto verso Male per cause, ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo dell'auto, ribaltandosi invadendo la corsia opposta di marcia. Fortunatamente non si era ancora in orario di apertura, altrimenti il rischio di collisione con veicoli in entrata verso Teramo 100 sarebbe aumentato di molto. Istituzione di un biglietto unico sulle tratte extraurbane della provincia di Teramo e la richiesta attraverso una risoluzione che verrà presentata in Consiglio Comunale del consigliere del Partito Democratico, Dino Pepe. Alfredo Giovannozzi. Un biglietto unico per cosa? Per la provincia di Teramo, un biglietto unico che può rendere un servizio importante a costi ridotti a cittadini, ma soprattutto a lavoratori e studenti della nostra provincia. In provincia di Pescara è stato già realizzato da tempo, speriamo che anche sulla nostra provincia possiamo avere il biglietto unico, un titolo di viaggio che consente ai lavoratori a tempo di percorrere sulle strade della nostra provincia e soprattutto a prescindere dai vettori utilizzati. La tua che dice? La tua ovviamente è disponibile, questa risoluzione la presenterò nella prossima commissione consigliare e ci auguriamo soprattutto per quanto riguarda i consiglieri di questa provincia che possono approvare la risoluzione e quindi impegnarsi attraverso la giunta regionale e realizzare questo importante progetto che consente di economizzare, rendere un servizio su tutta la provincia e soprattutto recuperare servizi per le aree interne. Un biglietto unico a che costo? Ma ci sono tanti esempi, ovviamente un euro e venti sarebbe quello ottimale per 90 minuti utilizzabile su qualsiasi vettore della nostra provincia. Poi ovviamente ci sono anche gli abbonamenti mensili, una serie di strumenti a disposizione del Consiglio regionale e della giunta regionale che attraverso una convenzione realizza questo importante progetto di servizio per la nostra provincia. Qualcuno potrebbe dire sì a Pescara lo hanno fatto però l'estensione della provincia di Pescara non è quella di Teramo. Assolutamente sì ma lì l'hanno realizzato tra Pescara e Chieti. Anche noi su Teramo possiamo lavorare su un progetto calibrato per la nostra provincia soprattutto per migliorare il servizio nelle aree interne, utilizzo ulteriore del trasporto pubblico locale, riduzione del traffico ma soprattutto una riduzione dei costi per studenti e lavoratori in maniera particolare. Con l'approvazione del regolamento via libera la Costituzione dei Consigli di Quartiere a Roseto degli Abruzzi. Seguiamo l'Iro Nazionale. Il Consiglio Comunale di Roseto ha dato il via libera al nuovo regolamento che prevede la Costituzione dei Consigli di Quartiere, compiuto un passo fondamentale per creare nuovi organismi che dovrebbero vedere la luce entro i prossimi tre mesi. Ne nasceranno dodici, uno per ogni frazione o quartiere del perimetro del Comune Rosetano dovranno essere rappresentati da uomini e donne con almeno 5 componenti sino ad un massimo di 9. Il rapporto con l'amministrazione locale dovrà dunque essere diretto, i consigli dovranno riunirsi più volte l'anno. Sono previste un paio di assemblee durante le quali la partecipazione dei cittadini sarà fondamentale per portare all'attenzione le problematiche e le questioni che meritano approfondimenti e quindi soluzioni, strade, manutenzione del territorio, sicurezza, gli spazi verdi attrezzati, la scuola saranno i temi su cui ci sarà un confronto ma anche su proposte che puntano al miglioramento di un territorio, ad esempio il Consiglio di Quartiere di Cologna Spiaggia nel momento in cui si sarà costituito affronterà uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni, la pista ciclabile. C'è chi sta già pensando di consegnare all'amministrazione guidata dal sindaco Mario Nunez una soluzione alternativa all'attuale percorso modificando un tracciato che ad oggi non è certamente il massimo, tra le idee anche quella di pedonalizzare un tratto del lungomare centrale ribaltando gli ingressi dei campeggi sul lato ovest lungo via degli Acquaviva. Soluzioni e proposte su cui sicuramente si aprirà un dibattito grazie ai nuovi organismi che saranno la casa di risonanza di tutti i cittadini. Soddisfatto il consigliere comunale delegato Vincenzo Addazi che in quattro mesi ha lavorato assieme agli uffici comunali alla stesura del regolamento senza il quale i consigli di quartiere non sarebbero potuti essere costituiti. Calcio Serie C, il Teramo rigenerato dal pareggio interno col Pescara con la porta della difesa più perforata del girone B rimasta chiusa per la seconda partita consecutiva. Giussi Cingoli. È stato un bel derby sabato al Bonolis tra il Teramo e il Pescara, alla fine è terminato in parità 0-0, un risultato giusto che ha permesso ai Biancorossi di dare continuità al successo di Fermo e ai Biancazzurri di proseguire la sua corsa nelle zone alte della classifica. Un Teramo compatto e organizzato, nella ripresa ha sfiorato anche il gol. Il Pescara dopo un buon primo tempo in cui poteva anche passare è sceso nella ripresa mancando in velocità e incisività, una degna cornice di pubblico e record d'incasso con oltre 3.000 presenze. Da sottolineare la grande prova del capitano Arrigoni, il vero leader, un trascinatore per i compagni sotto l'aspetto tecnico e tattico, ma bene hanno fatto anche Mordini, Bernardotto e il giovane Fiorani. Il diavolo contro il Pescara ha mantenuto la porta inviolata per la seconda partita di fila dopo essere stata finora la difesa più perforata con 51 reti subite. C'è stato un cambio di passo grazie anche al contributo efficiente del difensore Simone Jacoponi, oltre che a Soprano e Codromaz. Jacoponi ha dimostrato di essere in crescita giocando una delle migliori gare da quando è arrivato in Biancorosso e nel finale c'è mancato poco che si togliesse anche l'osfizio del gol. Domenica prossima il Teramo giocherà in trasferta alle 14.30 ad Olbia. Guidi dovrebbe recuperare il centrocampista Cucurullo che è tornato ad allenarsi con i compagni da valutare le condizioni dell'esterno a Ziosmanovic e del centrale Pinto. Siamo in chiusura e vi ricordo questa sera a partire dalle 20 e 30 all'appuntamento con Qui Pro il nostro settimanale condotto da Sergio Cinquino dedicato alle squadre abruzzesi di Serie C. Ampio approfondimento dopo lo 0 a 0 del derby tra Teramo e Pescara, al solito interviste, commenti in studio e tanti ospiti. È davvero tutto, vi ringraziamo per l'attenzione, una buona serata con la nostra programmazione.